A Reggio Calabria i carabinieri hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, notificandoli ad altrettante persone già detenute. L'accusa contestata nell'ambito dell'operazione denominata All in Two e Associazione per delinquere di tipo mafioso. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal GIP di Reggio Calabria, Antonino Foti, su richiesta del procuratore distrettuale Giovanni Bombardieri. I soggetti a cui sono stati notificati i provvedimenti sono Filippo Giordano, Sergio Iannò, Salvatore Callea, Giuseppe Germano e Luigi Germano. I primi quattro sono già detenuti in carcere, mentre il quinto è a domiciliari. Germano, sulla base del nuovo procedimento penale che è stato portato al nuovo arresto a suo carico, è stato tradotto in carcere. Filippo Giordano e le altre tre persone che si trovano già nella casa circondariale sono stati condannati in via definitiva a 30 anni di reclusione perché accusati dell'omicidio di Giuseppe Canale, avvenuto il 12 agosto del 2011 a Gallico, frazione di Reggio Calabria. Omicidio che, secondo quanto emerso all'epoca delle indagini, è stato motivato da una vendetta per l'attentato in cui nel settembre 2010 fu ucciso il boss Mimmo Chirico, da poco uscito dal carcere. L'operazione odierna rappresenta l'esito di un approfondimento investigativo effettuato dai militari del nucleo investigativo di Reggio Calabria sull'omicidio di Giuseppe Canale. Le cinque persone a carico delle quali sono state emesse le nuove ordinanze di custodia cautelare in carcere sarebbero legate, secondo quanto emerso dalle indagini, alle cosche di Indrangheta, Condello e Rugolino, oltre che alla locale di Oppido Mamertina.